Sponsored by Costa Marina, case, vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare www.valassiff.it Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Ulginate, trattoriacantù.com Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235 Treva Home, punto it Allo Speroni di Bustarsizio si affrontano per la 25esima giornata nella gironia di Serie C La Propatria che non vince da 5 gare e il Lecco di Mister De Paola riduce invece da due bei successi Formazione Bustocca che gioca il primo pallone di questo incontro, Lecco in completa tenuta verde Subito una sostituzione però nelle file della Propatria con Ferri che è costretto a prendere il posto dell'infortunato Brignoli Sulla destra è Lecco, Zeliac, la sovrapposizione di Giudici dentro il pallone, la respinta, poi colpo di testa di Petrovic Si salva la difesa della Propatria, non è finita ancora Lecco con lo scatenato Giudici E difende bene il pallone, poi il cross con il destro E ancora una volta la difesa Bustocca che allontana ma in apprensione 35esimo Nicco pallone morbido dentro, colpo di testa ad allontanare Poi il tentativo di tacco, splendido di Pierozzi Non riesce però a sorprendere Pissardo sul palo corto Rimessa laterale di Zeliac Poi un buon pallone giocato da Petrovic Ancora il Lecco con Masini, la palla si impenna, la spizzata e poi sul primo palo Simone Gantz fulmina, Caprile per il vantaggio dell'Ecco Non sono passati nemmeno 40 minuti E Simone Gantz realizza la quarta rete consecutiva nelle ultime tre partite La gioia dei giocatori dell'Ecco ma C'è una bellissima azione sulla destra, la rivediamo Masini, la palla si impenna sul tocco di un avversario Poi la spizzata di testa di Giudici E compare dal nulla come suo solito, come abitudine Simone Gantz sul primo palo che beffa Caprile è un difensore della Propatria Che però si fa vedere forte Con questa giocata splendida al 51esimo di Ferri Che pareggia subito in avvio di ripresa Per la formazione Bustocca Grande giocata di Ferri Entrato dalla panchina Decisivo per il pareggio dei suoi Lo rivediamo, grande controllo Palla sul destro, un dribbling secco E poi una sassata sul palo lontano Pisardo si tuffa ma non può nulla Su questo gran destro di Ferri Ci crede la Propatria nel suo momento migliore Nicco scende sulla destra Mette dentro il pallone Più e si salva Il lecco lo salva Seljak Sulla linea Grande occasione per la Propatria Dentro il pallone Più ha tutto lo specchio della porta spalancato Ma Seljak è ben appostato La palla finisce proprio addosso al numero due del lecco Poi qui Sparandeo Alza la gamba Tocca Pierozzi che rimane a terra Il direttore di gara Giusevic non ha Dubbi Estrae il cartellino rosso Dubbi però rimangono Perché non sembra assolutamente un intervento cattivo Una zona insomma abbastanza lontana anche dalla porta Sicuramente maldestro alza la gamba Sperandeo Che lascia i suoi in dieci uomini Con 25 minuti ancora da giocare Non succederà però più nulla Il lecco riesce a giocare bene gli ultimi minuti E porta a casa un pareggio Sicuramente importante per come si era messa la partita Finisce 1-1 allo Speroni di Busto